Aspetti e vedrò E vediamo Ecco fatto Dunque signor Lodripoli Lodurco Signor Lodurco, scusi tanto Mi stia a sentire Questa è lei Questa tazza Questa tazza Questo invece è l'altro Il capitalista L'altra tazza Profittatore L'altra tazza Questo invece è il capitale Lo zucchero Lo zucchero Eh no, eh no Eh un momento E se no è finito Mi lasci fare Dunque in origine Sono senza zuccare tutti e due E cioè Lodurco Turco Lodurco E la terza E la tazza La tazza La tazza E la torza Lodurco Lodurco Lei cosa farebbe? Che farei? Lo vede? Non lo sa nemmeno lei Questo invece lo sa Lo sa e ne approfitta Cosa pensa lei? La smetterà una volta Lei pensa così perché è un grand'uomo Una persona per bene E ha fiducia nel prossimo Questa invece no E continua Guardi un po' E continua 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 sempre Sempre No Lei non continua più Se no va alla cassa E paga il supplemento Eh La prepotenza Ecco Questa sarebbe l'unica soluzione La prepotenza? Eh sì perché Diciamocelo francamente Caro signor Poturco E i tipi come lei Sono quelli che si fanno mettere i piedi sulla testa Sulla testa? Eh già Perché vede il signor Loturco 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 Vedi signor Loturco Lei rappresenta la parte sana La parte onesta La parte pulita del paese Viceversa quelli Sono proprio la parte Capito? Ma quelli chi? Ma come quelli chi? E di chi stiamo parlando? Degli speculatori Degli sosi Degli approfittatori Cioè dei ragionieri Casoria Ma chi è questo ragioniere Casoria Che viene in mezzo ogni tanto? Oh E' quello che si frega lo zucchero Ah Casoria si frega lo zucchero? E anche il carbone Zucchero e carbone? Eh già E non va in galera? No Perché questi sono furbi Questi la sentono il codice penale Ma non rincappano dentro Guardi Guardi quello là Quel tipo Ma non guardi però Guardi Ma non guardi Ma come faccia guardare senza guardare? Guardi Ma non faccia vedere che guarda insomma Va bene questo? Sì questo qui Quello lì E chi è quello? Ragioniere Casoria Ma che Casoria? Vicino Vicino Casoria Fratta Maggiore E Fratta Maggiore Caivano Ma che Caivano Aldì Oh Signor Lodoro Io non glielo ho detto fino ad adesso per l'educazione Ma lei è proprio fesso Oh E beh Oh Come beh Non glielo ha detto mai nessuno E no ma adesso che me l'avete detto che faccio? Ci sarebbe una soluzione Oh C'è una soluzione? Esatto Adeguarsi Oh Adeguarsi Venga con me Avete detto Questo è il segreto C'è un segreto